Allora signori e signori voi dovete sapere che questa non è una coppia comune è una coppia che qualche settimana fa ha partecipato a un grandissimo congresso in Estonia di baciata se non sbaglio, vero Babi? Ok, ok Oltre che essere un grande ballerino è anche un mio grandissimo amico con appunto anche la signorina Palma Palma, ok Finalisti al campionato del mondo di salsa Lui invece ha vinto qualche anno fa No, qualche anno fa, l'anno scorso è arrivato finalista al Puerto Rico Salsa Congress una gara molto importante nel mondo della team E niente ragazzi, questo è un spettacolo molto particolare, interessante, molto da sentire Ci terrei molto che noi li tenessimo su con un grandissimo applauso anche mentre ballo Quindi iniziamo a scaldare le mani, forza, fatemi sentire Vai, 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 vai Ragazzi, signori e signori per voi Trai, direttamente dalla compagnia Latin Style Gabriele Macione e Valentina Palma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti